L'Aido è impegnato nel territorio comunale, nel territorio provinciale e in quello regionale per la diffusione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule. Oggi il gruppo comunale di Reggio Calabria che ha organizzato questa iniziativa, concorso Donazioni e Tre Pianti, oggi ci sarà la cerimonia della premiazione degli studenti vincitori di questo concorso. Devo ringraziare i dirigenti scolastici per la loro grande disponibilità, hanno partecipato 24 scuole regine, quasi tutti, e i lavori elaborati fatti dai ragazzi sono veramente di elevata fattura. Io considero questi ragazzi gli ambasciatori della diffusione della cultura della donazione e ogni anno si incrementa questo numero attraverso coloro che partecipano e attraverso i vincitori che sono degli ambasciatori privilegiati.